Benvenuto su epharma.com, dove la comodità dell'acquisto online si unisce alla professionalità di una vera farmacia. epharma è un e-commerce farmaceutico autorizzato dal Ministero della Salute italiano. Da noi puoi acquistare oltre 60.000 prodotti dei migliori brand di diverse categorie, come farmaci da banco, integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la cura della persona. Anche quelli veterinari. Sono tutti prodotti italiani e da lunga scadenza. Ti ricordiamo che nel nostro paese è vietato comprare online i farmaci con ricetta. È illegale! Su epharma puoi chiedere un consiglio ai nostri farmacisti attraverso la chat del sito ed effettuare anche ordini telefonicamente. Il tuo ordine sarà consegnato entro 48-72 ore e se lo desideri puoi pagare direttamente alla consegna. Se non sai come curare un sintomo, affidati alla nostra sezione Trova un rimedio per. I nostri farmacisti hanno già la soluzione per te. Ah! Puoi cercare un integratore anche se conosci solo il principio attivo o l'ingrediente che vorresti assumere. Basta digitare, ad esempio, vitamina C e ti mostreremo gli integratori dei migliori brand che la contengono. Hai dei prodotti che utilizzi frequentemente? Abbiamo pensato ad un servizio che ti semplifica la vita. In ogni scheda prodotto puoi scegliere l'opzione per il riordino automatico. Provederemo a spedirtelo ogni 15, 30 o 45 giorni, in base alla frequenza di cui hai bisogno. Serviamo in tutto il mondo migliaia di clienti e le recensioni positive testimoniano la passione e la professionalità che ogni giorno il team di epharma mette a disposizione per aiutarti a migliorare la qualità della tua vita. epharma.com, i tuoi farmacisti online.